C'è da segnalare purtroppo la sparizione di un ragazzino, di un bambino che non si riesce più a ritrovare. E' un ragazzino, figlio di una donna ritrovata morta purtroppo insieme al figlio maggiore di nome Christian, di soli 7 anni. Il più piccolo invece di soli 2, ripeto, che risulta ancora disperso, non si sa che fine abbia fatto, dopo questo devastante maltempo che ha letteralmente coinvolto, o meglio sconvolto, la regione Calabria. Il bimbo pensate che sarebbe scomparso nella zona di San Pietro Lamitino, mentre si trovava in compagnia della amata mamma e del fratellino di 7 anni, che purtroppo non ci sono più, purtroppo sono morti. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco impegnati nelle diverse ricerche, rese ancora più difficoltose per colpa di questi ingenti temporali, che purtroppo continuano a permanere. I pompieri hanno ovviamente installato un posto di comando, hanno svuotato diverse vasche di raccolta acqua per andare a verificare l'eventuale presenza del colpicino del bimbo. A supporto di ciò sarebbero intervenute anche diverse squadre, sia dalla città di Benevento, ubicata in regione Campania, che da Salerno, sempre ubicata in regione Campania. Insomma, che fine ha fatto questo ragazzino? Ma dove è finito? Ma è ancora vivo? Tanti sono i dubbi, tante sono le domande e la paura continua a essere purtroppo più che presente. Grazie, grazie dico cuore, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo maltempo incipiente che sta ed ha devastato letteralmente la regione Calabria, ubicata nel sud dell'Italia. Grazie, un salutone e al prossimo video. Termino dicendo che questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di questa famiglia né di questo bambino né di questo ragazzino né dei relativi genitori, ma solo informare eventuali persone che purtroppo questo ragazzino è scomparso. E quindi spero, mi auguro che venga ritrovata più presto perché ovviamente io vorrei che fosse ritrovato. Un salutone, grazie ancora, al prossimo video da Narratore Italiano.